Le riforme Bassanini. Si chiamano così le riforme che sono intervenute fra il 1997 e il 2001, il periodo in cui il professor Bassanini era ministro del governo pro di uno, e partirono con la legge 59 del 1997, legge delega, che delegava il governo adottare una serie di provvedimenti, volti da un lato alla semplificazione amministrativa, dall'altro al federalismo amministrativo, l'introduzione del principio di sussidiarietà, la riorganizzazione delle fonti di diritto attraverso la previsione anche di testi unici, la riforma del governo e la riforma del rapporto fra Stato-Regioni e Autonomie con la creazione delle conferenze. Alla riforma originaria, legge 59 del 1997, seguirono una serie di provvedimenti noti come Bassanini bis, legge 127 del 1997, Bassanini ter nel 1998, Bassanini quater 50 del 1999. Fra le più note riforme, frutto di questa generazione, abbiamo il DPR 445 del 2000, il regolamento sulla semplificazione amministrativa e documentale. Come detto, la semplificazione è uno degli elementi di forza delle cosiddette riforme Bassanini, fu riformata la legge 241, la conferenza di servizi, la autocertificazione delle dichiarazioni sostitutive e di certificazione di lato di autorità. Inoltre furono trasferite alle regioni e agli enti locali una serie di competenze attraverso il Decreto Legislativo 112 del 1998. Nacque lo sportello unico per le attività produttive, quindi una serie di interventi che produssero effetti già nei primi anni del 2000 ed arrivarono anche in Costituzione con la riforma costituzionale, la cosiddetta riforma della seconda parte del titolo quinto della Costituzione.